Ormai ha ufficializzato che anche in futuro vuole allearsi a Renzi e quindi è una pubblicità ingannevole, truffa agli elettori, dice di chiamarsi destra per poi stare organicamente alla sinistra, una delle peggiori sinistre che ha mai visto l'Italia negli ultimi decenni, perché è una sinistra che sta distruggendo l'Italia e asservendola a certi poteri europei che sono completamente strani agli interessi del popolo. Quindi lui sta prendendo in giro gli elettori, li truffa e quindi noi lo diffidiamo dall'ingannare gli elettori.